per giorgio buonasera elia buonasera stefania che dice rn unica gioia in questi giorni di isolamento sei malata stefania buonasera luca metal come state ragazzi benvenuti a questo q a una diretta vacanziera di rotte narrative vacanziera non perché voi necessariamente siate in vacanza ma perché sono in vacanza io sono al mare sono in nella laguna veneta in questi giorni ma ci tenevo a non trascurarvi ci tenevo a farvi sentire che anche nel mezzo della calura estiva gli scrittori non smettono di pensare alla scrittura io di sicuro non sto trascurando le mie i miei doveri di scrittore e non voglio trascurare nemmeno la il coltivare il voi giovani virgulti che avete bisogno di essere periodicamente annaffiati per crescere sani e vigorosi questa sera quindi q a un paio il tema lo avrete sicuramente già visto dal titolo di questa diretta non so quanti saremo connessi questa sera una sera che tra l'altro qua io spero che regga tutto quanto perché come vedete invece che essere in giro a camminare lungo la spiaggia cosa che mi sarebbe piaciuto fare anche per voi per allietarvi per rinfocolare un po la vostra stanca attenzione invece le condizioni meteo qui sono assolutamente proibitive c'è un vento pazzesco e quindi ho dovuto starmene rintanato in camera dicevamo il tema di questa sera sarà la mentalità sarà una chiacchierata con domande risposte a proposito di tematiche molto importanti vediamo giusto un paio di cose e poi cominciamo allora comunicazioni di rito abbiamo archiviato e direi con un gran bel successo anche questa volta il giugno del fantasy siamo entrati ufficialmente a luglio e con giugno abbiamo anche chiuso abbiamo archiviato pure la riapertura dei nostri corsi relativi al genere della narrativa fantasy corsi che adesso sono tornati come promesso fuori dal mercato e ci resteranno per un bel po a giugno abbiamo lanciato anche a inizio giugno il nostro percorso di formazione per junior editor per aspiranti editor per chi voglia abbracciare questa professione e farsi largo nel mercato del professionale a essa deputato oggi nel 2022 abbiamo dedicato questo altro corso anche quello è stato un grosso grosso successo stavolta a differenza di quello del fantasy è stato un successo soprattutto inaspettato non ci aspettavamo così tanta così tanto interesse era la prima volta che mettevamo sul mercato un corso di questo tipo un corso di professionisti per l'editoria e la risposta è stata veramente superiore alle nostre aspettative quindi bravi sono molto contento mi fa piacere che molti stiano partendo con il piede giusto a questo proposito prima di cominciare questa diretta ci tenevo proprio a dirvelo a dirvi che mi fa piacere che stiate reagendo così bene che diate questa questo livello di risposta ai alle nostre iniziative quindi benvenuti ai nuovi corsisti lo dice anche Elia in chat assolutamente state diventando un bel numerino ragazzi decisamente sì e grazie anche all'ampliamento del team di rotte narrative che sta espandendo il proprio raggio d'azione stiamo preparando non preoccupatevi sempre nuove iniziative sempre nuovi materiali sempre nuove attività per starvi più vicini possibili nel vostro percorso di studi e anche in quelli paralleli a ciò che costituisce il lavoro dello scrittore per questo motivo appunto questa sera voglio parlarvi non tanto della parte di formazione che è cruciale ma mi sembra proprio che stiate capendo la stiate padroneggiando visto quanti e con che entusiasmo aderite alle nostre iniziative ma di cosa ci vuole per diventare scrittori destinati a fare molta strada quindi parleremo di aspetti che non hanno strettamente a che fare né con il mercato né con la scrittura né con lo stile né con la costruzione delle storie ma che non di meno sono aspetti estremamente importanti aspetti che ho visto fare la differenza in una ampia casistica di circostanze quindi si tratta in questo caso di un'analisi del tutto empirica che ho fatto non c'è stato un sondaggio a questo proposito però si tratta comunque di informazioni che hanno visto che ho visto avere effetto che ho visto avere un impatto in una ampia casistica di situazioni speriamo anche che la mia gola regga questa sera perché mi piacerebbe che anche voi ovviamente interagiste e che mi faceste delle domande anche se questo non è chiaramente uno di quegli argomenti dall'appeal forte che capaci di richiamare spontaneamente le classiche folle oceaniche di persone come invece lo è il genere fantasy vedo il fatto che siete soltanto 31 che rispetto alle ultime dirette che abbiamo fatto che erano tutte mirate sul fantasy sono meno della metà fa niente non importa è anche luglio è anche comprensibile però a voi 30 e soprattutto alle varie centinaia che vedranno in seguito questo questo video nei prossimi le prossime settimane nei prossimi mesi voglio darvi un avvertimento non sottovalutate questi argomenti perché anche se luccicano meno degli altri anche se potrebbe sembrarvi che vi siano meno utili degli altri per quel per quanto ho visto io trascurare alcuni di questi aspetti è potrebbe essere più grave per voi per le vostre chance di abbracciare con successo una carriera da scrittori professionisti che non altri aspetti apparentemente più più importanti più fulcrali come ad esempio avere un buono stile di scrittura una bella capacità di emozionare il lettore sì però se mancano alcune delle cose di cui parleremo questa sera il rischio è proprio quello di magari scrivere con soddisfazione per qualche tempo e poi a un certo punto non farcela più non farcela più per una serie di motivi che adesso andremo a vedere vi spiegherò alcuni concetti ho preso addirittura appunti per il Q&A di questa sera sapete che invece di solito vado a braccio no non vuol dire che ho tempo da buttar via assolutamente no però ce l'avevo lì da un sacco di tempo pronta da utilizzare alla bisogna ho rispolverato questa struttura di Q&A per voi che seguite il canale YouTube di Rotte Narrative allora vediamo tre concetti fondamentali che ho visto accomunare molti molti autori che hanno fatto strada e che al contrario ho visto essere la cui mancanza ho visto essere la causa in vari per vari motivi diversi per varie declinazioni diverse del abbandono di altri che non è che non ce l'avevano quindi vediamo il primo di questi principi il primo di questi principi per come l'ho sintetizzato è che lo scrittore di successo prima di tutto il resto conosce e accetta se stesso cosa vuol dire? vuol dire che il viaggio della scrittura è vero è molto... buonasera a tutti i ragazzi che vi state connettendo allora cosa vuol dire che lo scrittore in primo luogo conosce e accetta se stesso se vuole avere successo? vuol dire che il viaggio della scrittura è un viaggio molto lungo molto avventuroso un viaggio pieno di ostacoli, ne parleremo anche dopo, però è un viaggio che può essere svolto in tanti modi diversi potete svolgerlo in compagnia per esempio, potete crearvi il vostro team creativo io l'ho fatto per buona parte del mio percorso, avevo un piccolo gruppettino di autori miei amici con cui mi trovavo molto bene poi non era fisso, a volte qualcuno si aggiungeva, a volte qualcuno se ne andava e in questo gruppetto ci rimbalzavamo idee, ci confrontavamo le cose, quando uno scriveva una cosa gli altri gliela alfa leggevano sempre e viceversa e questo è un possibile approccio un altro approccio è quello che sto tenendo io attualmente invece che è un approccio invece più stratificato, più gerarchizzato ed è quello che vi insegno anche nello scrittore speciale nel modulo 7 e cioè un approccio in cui voi siete in un certo senso in cima a una piramide e sotto di voi ci sono vari strati di persone che vi danno una mano, vi stanno attorno alfa, beta, gamma lettori che vi aiutano in vari modi nella stesura di un libro sia per quanto riguarda magari la documentazione sia per quanto riguarda soprattutto le stesure e non per ultimo anche per la parte diciamo di incoraggiamento il vostro team che fa il tifo per voi che quando ritardate un po' con la consegna del capitolo vi manda la mail ehi, sta succedendo, va tutto bene, come mai non mi stanno arrivando nuovi capitoli della storia voglio sapere come va avanti, eccetera, eccetera quindi persone che possono esservi di sprono ma una cosa in comune a tutti e poi ci sono persone che fanno questo viaggio in totale autonomia qual è la singola persona che è in comune a tutti quanti questi approcci? sei tu, è l'autore stesso l'autore ha un dovere di onestà molto forte nei confronti di se stesso per poter fare bene il suo lavoro per i propri lettori cosa significa? significa che devi conoscere bene i tuoi punti di forza e i tuoi punti di debolezza non devi chiudere gli occhi né sugli uni né sugli altri conosco scrittori troppo modesti che faticano a riconoscere di avere delle grandi capacità a proposito di magari alcuni settori della scrittura alcune aree persone che tratteggiano meravigliosamente i personaggi o che hanno un repertorio di dettagli visivi concreti pazzeschi killer che appena cascano sulla pagina fanno spalancare gli occhi ai lettori altri ancora che magari sono dei draghi nei dialoghi io li invidierei vorrei saper scrivere dialoghi come loro perfetto e se un autore un autore dovrebbe essere consapevole dopo che abbia sperimentato un minimo di quali siano i suoi punti di forza e dovrebbe andare attivamente a cercarseli quei punti di forza non soltanto dovrebbe implementare la conoscenza dei suoi punti di forza che possono anche essere generiche aree di sensibilità dovrebbe implementare questa autoconsapevolezza all'interno delle sue strategie strategie di che tipo in che senso chiaramente se sai di essere molto forte nei dialoghi il tuo prossimo libro fa in modo che magari abbia una quantità maggiore di dialoghi se sei indeciso tra una storia buonasera Enzo se sei indeciso tra una storia che sia ambientata in una metropoli e abbia un trio di personaggi polarizzati che mandano avanti la vicenda oppure una storia totalmente ambientata in una base scientifica in Alaska con un personaggio chiuso in questo igloo con le comunicazioni interrotte e da solo ti stai un po' sacrificando scegliendola la seconda chiaramente vai a propendere a parità di altre condizioni per qualcosa che ti permetta di valorizzare le tue capacità non è vanità non lo è non è vanità se siete egualmente onesti ascoltatemi bene sui vostri pregi e sui vostri difetti non è vanità sapere di avere dei punti di forza significa natura non bisogna eccedere chiaramente altrettanto importante è appunto essere consapevoli anche dei propri difetti altra casistica ci sono moltissimi sono ovviamente di più rispetto a quelli che sono troppo che sono troppo sminuenti delle proprie doti ce ne sono molti di più che hanno il nervo scoperto circa le proprie debolezze lo sapete noi scrittori tendiamo a essere molto spesso delle persone un po' sensibili alle critiche e molto spesso siamo sensibili anche alle nostre di critiche quindi non ci piace accorgerci di non essere capaci di non essere bravi a fare qualcosa non ci piace vedere qualcun altro che è più bravo di noi nel fare una determinata cosa una qualsiasi di quelle che ho detto prima o una qualunque altra che vi venga in mente sicuramente ve ne verrà in mente qualcuna perfetto se siete consapevoli di avere un qualcosa che non è il vostro punto di forza molto importante se volete avere successo è non chiudere gli occhi non far finta che non ci sia anche perché 9 su 10 è molto probabile che quella vostra punto di debolezza voi lo possiate quantomeno smussare perciò magari non arriverete mai a essere eccellenti in quell'aspetto ma è molto importante che vi impegnate a portare ciascuno delle vostre valli così come avete i picchi di abilità è importante che portiate ciascuna delle vostre valli almeno a un livello sufficiente questa è una cosa che io vi straraccomando non la fanno in molti molti fanno solo la prima parte cioè si concentrano a scrivere solo libri che mettono bene al centro quelle componenti in cui sono bravi ma trascurano l'altro aspetto e cioè quello di tirar su alla decenza tutti gli altri aspetti perché è più difficile farlo è molto più difficile lavorare sulle parti in cui non siamo bravi rispetto che a potenziare quelle in cui già siamo bravi è gratificante fare portare un livello di abilità da 7 portarlo a 7,5 e accorgerci che i nostri beta lettori abituali ci dicono wow si vede che hai proprio migliorato su questo aspetto dopo che hai studiato quel corso qui è figo è bello ci fa piacere compiace il nostro ego bene a patto che voi abbiate lo stesso trattamento anche per le valli ogni volta che compiacete il vostro ego da una parte è cercate sempre di compensare cioè di fare la stessa cosa anche di portare su di pari passo anche le vostre valli vedo che c'è una domanda di Andrea chi definisce quello in cui siamo bravi da soli non potete farlo dovete per forza basarvi sul parere di altri dovete e questo è complesso come gli studenti dello scrittore speciale sanno perfettamente questo che ho appena detto non è facile non basta far leggere i vostri scritti alla mamma all'amica al compagno al compagno di università no in realtà le uniche persone su cui dovreste basare i vostri pareri sono persone assolutamente schiette e oneste l'ideale sarebbero persone che non vi conoscono di persona ma è molto difficile ottenere i loro responsi di lettura ci sono vari modi questa è la serata però insomma il concetto è ascoltare un numero rilevante di pareri di persone diverse dotate di sensibilità diverse e che fra di loro non possono comunicare o quantomeno magari possono ma non comunicano circa questo aspetto qua e rintracciare le sovrapposizioni se su dieci persone a cui fai leggere quel racconto lì tre ti dicono che quella battuta X gli ha fatti ridere tantissimo e poi scrivi un altro sono tre su dieci non sono pochi tre su dieci che dicono la stessa cosa poi scrivi un altro racconto e dicono ah lo scambio di battute fra questi quattro personaggi l'ho molto apprezzato è stato il mio pezzo preferito del racconto magari un pezzo serio eccetera eccetera queste due cose più un'altra più un'altra iniziano a dirti iniziano a farti capire che potresti essere bravo nei dialoghi che il tuo punto forte potrebbe essere uno dei tuoi punti forti è un esempio però sì l'unico modo efficace è parametrarsi con lettori il più vicini possibili al pubblico come fisionomia interiore di sensibilità al pubblico a cui vi volete rivolgere non è una scienza esatta vi dovete avvicinare gradualmente quindi ok questo è il concetto conoscere bene i propri punti di forza e di debolezza accettarsi per quel che si è accettarsi per quel che si ha è un dato di fatto ragazzi ciascuno parte con diversi gradi di predisposizione all'apprendimento e con diversi gradi anche di lezioni già apprese alcuni questa roba la chiamano talento in realtà è una cosa fuorviante però è vero che ci sono delle differenze fra autore e autore sia in termini di cose che già sa fare sia soprattutto in termini di potenzialità ulteriore di miglioramento e non siamo tutti uguali quindi la prima cosa da fare è uscire dalla trappola mentale letale dell'invidia così come l'ego rischia di essere una maledizione non riuscire a disciplinare il vostro ego è una maledizione è una cosa che vi porterà in dei posti dove non vorreste assolutamente trovarvi c'è una lezione apposta nello scrittore speciale su questo allo stesso modo anche questa altra parte è veramente veramente rischiosa non dovete assolutamente lasciarvi lasciarvi sbilanciare in questo senso è molto importante non essere invidiosi è importantissimo accettare voi stessi ricordatevi che non c'è differenza che non possa essere colmata con l'impegno lo studio e la costanza può darsi che magari non abbiate ancora raggiunto i risultati che sperate nel lasso di tempo che vi aspettavate perché magari state cambiando metodo e allora potrebbe voler dire che in certi casi possa far bene cambiare metodo approcciare il problema sotto prospettive diverse provare a cambiare il target di riferimento provare a cambiare il genere letterario provare a cambiare il tipo di storie provare a cambiare il narratore quel che vi può riuscire utile sperimentatelo alla base cercate sempre di accettarvi per quello che siete cercate di lavorare sfruttando al massimo i vostri talenti cercando di valorizzarli con le scelte che fate e lavorate sui vostri difetti con tutta l'umiltà e la lacrità che potete non lasciateli lì a pendere a penzolare solo perché tanto non siete bravi il lascia stare perché tanto non sono capace è la scusa pigra di chi probabilmente prima o poi riceverà una mazzata proprio da quella direzione lì proprio dal punto in cui è più debole non lasciate punti scoperti nella vostra armatura tecnica nella vostra armatura stilistica perché prima o poi vi arriveranno addosso le raffiche di frecce quindi non saranno le frecce mirate ve ne arriveranno addosso cento per volta e la singola freccia che vi centrerà in quel punto ci sarà e a quel punto se avrete lasciate delle vulnerabilità anche con voi stessi sto dando un principio di mentalità se saprete di aver lasciato colpevolmente quel buco scoperto di non aver fatto quello che potevate per raggiungere il miglior livello che potevate raggiungere sarete più deboli sarete più sensibili più vulnerabili agli attacchi perciò il vero trick è cercare di avere la coscienza a posto con voi stessi con voi stessi vi ricordate quanto spesso vi dico cercate di imparare a scrivere il meglio possibile e fatelo in primo luogo per voi stessi certo è una cosa che avrà un impatto anche sul pubblico ma in primo luogo ce la su voi stessi d'accordo quindi fatelo e questa è una cosa importante ultimo aspetto ultima declinazione di questo primo macro principio del scrittore di successo che in primo luogo conosce e accetta se stesso l'ultima declinazione è cercate di circondarvi di persone collaboratori beta lettori alfa lettori partner compagni quel che è che vi completino che siano incastrati bene nelle vostre mancanze possibilmente vi porto il mio esempio io so di avere una memoria pessima e perciò sia lavorativamente corrotte narrative sia nella scrittura l'altro mio lavoro quello che sta al centro della mia vita e che è il fulcro di gravità attorno a cui ruotano tutti gli altri io cerco di circondarmi di persone con una buona memoria perché io so che non sono capace anche nelle vostre storie cercate di fare così è una se vogliamo una diramazione di quello che vi ho detto prima del conoscere i vostri punti di debolezza accettarli con tranquillità e con onestà e senza invidiare chi è messo meglio di voi perché non conta niente la predisposizione a ben vedere alla lunga a contare di più sarà quanta strada avrete fatto costantemente rivolti nella direzione giusta questa è la cosa più importante poi quanta strada avrete percorso in questo lasso di tempo non è tanto importante che sia un po' più corta un po' più lunga di quella che avranno percorso gli altri concentratevi nel fare il meglio di voi stessi questo vi darà molta serenità anche interiore una cosa importante ok ragazzi io ho iniziato a spiegarvi il primo di questi tre punti mi raccomando poi preparate le vostre domande che voglio sentire anche i vostri dubbi le vostre angosce e eventuali domande secondo dei tre principi che mi sono preparato stabilire lo scrittore di successo lo scrittore destinato al successo stabilisce obiettivi congrui con se stesso scrivere richiede enorme fatica e questo probabilmente lo sapete se avete intrapreso questo percorso certo c'è tutta la parte divertente c'è la parte di apprendere cose nuove di confrontarsi con gli altri di ricevere feedback positivi eccetera lo sappiamo tutti che però ci sono anche degli aspetti che sono estremamente dispendiosi in termini di energie mentali per molti lo è ad esempio la fase di strutturazione della storia al punto che in tantissimi rinunciano a priori dicono no non lo faccio parto scrivendo di getto e se non hanno la fortuna di aver già automatizzato alcune di quelle cose che dicevamo prima circa la predisposizione scriveranno delle schifezze o meglio scriveranno storie molto peggiori di quelle che avrebbero potuto scrivere se fossero riusciti a fare questo tipo di attività o per altri è invece la prima stesura io sono uno di questi per me la prima stesura è proprio gnocca è una sofferenza è una cosa che non mi diverte quanto tutti gli altri le altre fasi della stesura è una fase anche in cui spesso chiedo aiuto talvolta e è una cosa che è importante sapere ciascuno ce l'ha ciascuno ha uno, due, tre punti in cui fa fatica benissimo è più facile se oltre a gratificarsi come è anche giusto fare nelle fasi che vi vengono più difficili e quindi anche facendo mettendo in atto tutti quei meccanismi che sono spiegati nel modulo 6 dello scrittore speciale per vincere la procrastinazione per vincere la resistenza alla scrittura per vincere le manie di perfezionismo compulsivo ciascuno declina queste forze diciamo di resistenza appunto in modo diverso a seconda del proprio carattere bene oltre a diciamo combattere queste proprie resistenze interiori è molto più facile arrivare a lontano continuare a impegnarsi nel tempo se si stabilisce un obiettivo una mission stabilisciti una missione uno scopo da raggiungere con la tua scrittura questo è un aspetto che che forse diversi di voi potrebbero non aver mai non averci mai riflettuto è più facile che la tua vita possa amalgamarsi bene con la scrittura o meglio che la tua scrittura possa intrecciarsi a doppio filo con la tua vita se scrivere cessa di essere solo ed esclusivamente l'attività che più ti piace se non è indispensabile ma se riesci a trovare una finalità possibilmente altruistica per ciò che stai facendo per la tua il tuo percorso da scrittore beh ti sarà più facile superare quei momenti difficili di cui parlavamo prima che possono essere interni alle fasi produttive di una storia potrebbero però anche essere tra una storia e l'altra potrebbe capitare magari dopo tre romanzi scritti e pubblicati quando cominci già ad avere il tuo pubblico che ti segue e che apprezza quello che scrivi non hai più lo stimolo o la spinta per andare avanti le tue soddisfazioni magari te le sei tolte qualche parecchie centinaia o qualche migliaio di copie o magari anche di più le hai vendute quindi non è più quella cosa del devo dimostrare il mio valore perché un po' l'hai dimostrato ecco a quel punto lì potresti perdere motivazione invece gli scrittori che sono destinati al vero successo ho visto che non di rado hanno un qualcosa che vogliono raggiungere hanno un qualcosa non soltanto che vogliono dimostrare in termini di valore personale che può pure essere una motivazione adatta a questo concetto ma una qualche messaggio da trasmettere per esempio o una finalità etica da far emergere un qualche contributo che attraverso la pluralità delle proprie opere si vuole lasciare al mondo una sorta di eredità composta dalla somma delle proprie opere questo è un qualcosa che non hanno tutti ci sono molti scrittori anche bravissimi che scrivono semplicemente perché sono bravi a farlo e si divertono nel farlo perfetto non è una critica per chi sia così tutt'altro però potrebbe invece essere il vostro caso possibile nel vostro caso intessere la vostra scrittura con una finalità dargli trovargli una traiettoria per la quale possa avere rilevanza per gli altri ciò che fate quindi non soltanto la singola opera ma l'insieme delle vostre opere e questo è un modo che è una cosa che può essere fatta più facilmente se di romanzo in romanzo vi abituate a fare una cosa che è comunque importante anche all'interno del singolo romanzo e cioè intessere la storia con i tuoi valori i tuoi interessi personali le tue competenze le questioni su cui hai del vissuto personale con cui sei entrato in relazione direttamente mi è capitato in qualche in qualche sessione di consulenza frontale di dire ai miei studenti privati sai che non mi convince questa storia che mi hai proposto perché mi hai raccontato la tua storia mi hai raccontato questa storia e io non vedo punti di contatto le tematiche che stanno dietro questa storia non hanno una relazione con te non le hai mai vissute per te sono troppi letterari per te sono semplici motivi alternativi ad altri in modo più o meno neutro ecco fare così rende più difficile il tutto se invece riuscite a trovare una orbita c'è chi sicuramente la chiamerebbe voce se trovate la voce chiamatela come vi pare io detesto questo termine perché è una roba che non contiene niente può contenere tutto quindi non contiene niente il punto però è questo se voi trovate una finalità una qualcosa a cui tende la tua scrittura scrivere romanzo dopo romanzo sarà più facile sarà più facile soverchiare gli ostacoli da questo consegue cercate di non stabilire la vostra rotta sulla base di impulsi immediati di mode letterarie o di circostanze transitorie della vostra vita chi abbraccia la carriera da scrittore per vendicarsi della ex scrivendo un romanzo vendetta in cui trasfigura se stesso e le cattiverie che la ex le ha fatto al termine della loro relazione per poi incrociare le braccia e dire adesso lo do alle stampe e anche se il nome è cambiato perché sennò mi denunci tutti i nostri amici sapranno che sto parlando di te ok magari quello sfogo lì se non fai niente di sbagliato può averti aiutato a superare un brutto momento quel che vuoi magari sarà stata una stupidata infantile però a quel punto si ferma lì perché non è una cosa appunto è una cosa che manca di questa finalità di questa missione perciò il mio consiglio è non stabilire la tua rotta a lunga distanza questo percorso che intraprendi sulla base di contingenze o di impulsi immediati peggio ancora se lo fai sulla base di voglio sfruttare una moda letteraria quindi inizio a scrivere una cosa solo perché è una cosa che mi permette di vendere tante copie ragazzi attenti a fare questo discorso lo sapete come la penso a questo riguardo guardare il mercato è importante ma vi occorre guardare il mercato per poter fare strategie corrette strategie che hanno una speranza più alta possibile di ottenere i risultati che sperate non significa che quello sia il valore ok non è quello il concetto ricordatevi la sessione su Likigai il Q&A in cui vi ho spiegato quel concetto là non ve lo dimenticate se voi impostate la vostra rotta iniziando a scrivere un genere letterario che tira molto mettiamo caso romance e per avere successo perché vi piace fregiarvi dell'idea di essere degli scrittori di successo vi piace vedere il vostro nome in alto nelle classifiche di Amazon di un qualsiasi genere scegliete il romance per questa ragione ecco magari diciamo a parte che sarà difficilissimo che abbiate successo nel romance se non siete degli estimatori del romance ma lasciamo perdere mettiamo caso che per un incastro di circostanze fortuite riusciate effettivamente ad aver successo ok e poi ne scrivete due tre quattro diventa un lavoro ok magari vi diventa anche un lavoro remunerativo non è impossibile persino in Italia è possibile ci sono un sacco di sé ma è possibile se siete dei self publisher per esempio se scrivete con regolarità se siete rapidi eccetera non è impossibile però a quel punto vi diventa un lavoro d'ufficio è uguale quindi che voi siate scrittori che siate impiegati alle poste sarà la stessa cosa quindi non è quello che vi consiglio diventare scrittori di successo in questo modo qua è molto più difficile non è impossibile come tutte le altre cose non è che mancando di uno di questi aspetti non diventerete non avrete successo ma io sto cercando di darvi delle prospettive per aiutarvi ad accorgervi di cose che magari stanno già succedendo nel vostro percorso molto spesso succede ed è perfettamente normale ed è perfettamente accettabile che voi partiate senza una finalità se non avete se non sentite di avercela già una finalità o una tematica che per voi è particolarmente importante e che indagate di libro in libro eccetera eccetera non sceglietene una apposta ascoltatemi bene questa cosa che vi ho detto non affrettate la scelta di questo aspetto perché è un aspetto che molto spesso viene con il tempo da solo se iniziate a scrivere semplicemente cercando il punto di incontro tra quello che vi piace fare che sentitevi essere bravi a fare di cui il mondo e i lettori hanno bisogno e che può anche darvi delle soddisfazioni delle gratificazioni in termini di sia economici sia di contatto con gli altri di contatto umano qualunque sia poi la motivazione che spinge ciascuno di voi ecco se cercate l'ikigai di momento in momento di libro in libro è probabile che anche se non avete se non partivate con le idee chiare circa la missione lo scopo che volete raggiungere con la vostra carriera di autori è probabile che vi ci imbatterete strada facendo anzi per me è stato così io non partivo con un'idea definita e chiara in mente mi sono accorto che tendevo a esplorare frequentemente tematiche che erano legate da un filo conduttore di opera in opera di romanzo in romanzo anche in romanzi che non partivano necessariamente ed esplicitamente imperniati attorno a quei concetti lì è una cosa che ho letto peraltro in uno dei miei autori fantasy preferiti in un'intervista di Vivian Sapkowski ovviamente no Swanwick Michele Swanwick che diceva una cosa che quando l'ho letta mi è venuta la pelle d'occa perché è la fotocopia di un pensiero che ho avuto anch'io un paio di romanzi fa lui scriveva che si era reso conto scrivendo cioè tipo al decimo romanzo o ventesimo non lo so che quasi tutti i suoi romanzi ruotavano attorno al tema dell'identità il tema dell'identità è un qualcosa che uno non è che al primo romanzo parta dicendo io voglio scrivere mille libri che parlino del tema dell'identità è un qualcosa di cui ti rendi conto dopo aver fatto della strada e dopo aver assecondato quella parte profonda di te che ti orienta le scelte tra alternative equivalenti che possono avere ciascuno i propri punti di forza i propri punti di debolezza e continuando a scegliere in modo sincero nei confronti di se stessi e quindi come dicevamo non per seguire delle mode ma per trovare i punti d'incontro fra quello che uno vuole e quello che il mercato vuole ecco che continuando a far bene questa cosa senza mai tradire se stessi a un certo punto questa missione tenderà a manifestarsi da sola perciò non cercate di forzarla non cercate di appiccicarcela cercate semmai di riconoscerla nel vostro percorso è una cosa tanto di lunga percorrenza non vi serve svilupparla da subito sappiate che quando l'avrete sviluppata probabilmente vi sarà un po' più chiaro quello che ha luogo normalmente nei vostri processi creativi inconsci e questo potrebbe appunto rendervi più facile la vita perché potreste capire quindi quando un libro magari che è mancante di riflessioni circa le tematiche che per voi sono importanti che può essere le relazioni può essere la società può essere i rapporti di amicizia quel che è saperlo vi aiuterà come dicevo prima a scegliere i libri più giusti per voi da scrivere ok quindi questo è un po' il concetto quindi altra cosa se altra diciamo derivazione di questo principio di base se state compiendo una rotta e avete già scritto dei romanzi ma vi accorgete che che ne so le tematiche del vostro ultimo romanzo vi danno molto di più di quello che vi avevano dato i precedenti cinque e siete al sesto potreste decidere di potreste domandarvi se sia lecito cambiare rotta oppure se sia meglio più conveniente rimanere nel solco magari la rotta autoriale che avevate tracciato fino a quel momento semplicemente perché non vi eravate accorti che le tematiche che vi interessavano di più erano da un'altra parte in questo caso ciascuno ragioni ciascuno decida con in base alla propria coscienza e a quello che si sente io consiglierei di non aver timore di cambiare rotta anche a rotta avviata perché alla fine la cosa più importante di tutte dovrebbe essere che voi siate soddisfatti del vostro lavoro io poi naturalmente vi incito a impostare come parametro di valutazione per la vostra soddisfazione non tanto e non solo quanto vi divertiate a scrivere la storia ma quanto la vostra storia dopo che l'avete scritta divertendovi diverta anche delle altre persone e questo è il principio che io vi consiglio il canone il criterio che vi consiglio di adottare per valutare la vostra appunto il successo o meno di un vostro libro però appunto potrebbe capitare che vi imbattiate tardi in quello che è la vostra vena profonda il vostro tema scottante quella cosa che con la materia incandescente che era sempre stata lì ma l'avete focalizzata magari tardi perché potrebbe anche essere pudore potrebbe essere paura spesso le cose più magmatiche per noi stessi per la nostra sensibilità sono quelle che abbiamo un po' più di fatica a toccare certi tipi di problemi certi tipi di situazioni magari per i primi tre libri scrivete tutt'altro poi trovate il coraggio di farlo e vi accorgete che il pubblico che vi siete radunati attorno coi primi romanzi non è particolarmente in linea con il con l'ultimo romanzo e a quel punto sappiate che la domanda ve la farete e sarà una domanda tosta sarà una di quelle situazioni lo so perché ho visto tanti scrittori trovarsi in questa circostanza e non solo scrittori anche artisti di altre di altre categorie la situazione in cui vi costruite attorno un tipo di pubblico con le prime opere che fate la prima diciamo traiettoria artistica che tracciate con il vostro inizio di carriera e a un certo punto vi accorgete che può anche darsi che magari per un certo periodo della vostra vita quelle fossero le tematiche che risuonavano maggiormente con voi può anche darsi che a un certo punto siate cambiati e a quel punto quelle vecchie tematiche non sono più in linea con voi con quello che volete fare continuando a diciamo compiacere il pubblico che vi siete creati a quel punto potrebbe uno di piacervi di meno due potrebbe diventare manierismo lì potrebbe essere cavalcare una moda che avete costruito voi su voi stessi ecco io in questi casi non vi voglio dire mandate tutto al diavolo date fuoco a quello che avete fatto e abbracciate la nuova strada perché è più complesso di così dovete ponderare molto bene caso per caso è una cosa che è capitato è capitata alla Rowling che ha scritto Harry Potter poi non ne poteva più voleva sperimentare altre cose e si accorta che però è rimasta un pochino imprigionata in questo grande successo è successo anche un mio corsista un corsista di rotte narrative nonché un mio amico Tiziano Incani che nella provincia di Bergamo è famosissimo super famoso come cantante cantautore in lingua dialettale col soprannome di Bepi e è un cantautore vernacolare buffo quando ero ragazzino sul pullman per andare al liceo con tutti i miei compagni di classe cantavano a squarciagola le sue canzoni e era una cosa proprio completamente da ridere non a livello jam boy ma una via di mezzo sull'onda di Elio e le storie attese però in Bergamasco una cosa di quel tipo lì e era una persona però estremamente un po' più ignorante di Elio e le storie attese in realtà è una persona con una complessità un'interiorità una sensibilità molto diversa da quella e a un certo punto della sua carriera dopo aver venduto non so quante decine di migliaia di dischi dopo essere diventata una persona di una certa notorietà concerti con diecimila persone stadi pieni addirittura dopo aver raggiunto questo livello di notorietà si è trovato a non vivere bene a non vivere più bene il suo personaggio pubblico a livello di cantante di cantautore e si è trovato nella condizione di dove prendo lui come esempio non mi pare che segua le mie dirette però lo avvertirò di averlo menzionato la situazione in cui si è ritrovato e che non ha nascosto ne parla anche nella sua biografia è la situazione in cui si è trovato prigioniero di quel che aveva fatto fino a quel momento e lui a quel punto ha preso la decisione di cambiare e sappiate che quello che è successo alla Rowling e quello che è successo anche a lui dopo aver fatto questa scelta è quello che plausibilmente dovete sapere che capiterà a un po' tutti coloro che faranno questa scelta diciamo più vicina alla all'onestà e alla lealtà verso se stessi e verso le proprie aspirazioni profonde e cioè che vi perderete gran parte del pubblico che che vi eravate costruiti fino a quel momento ve lo perderete per strada che vi manterrete vicino a voi saranno una piccolissima percentuale di persone fanatiche che qualunque cosa facciate vi seguiranno sempre comunque più tutte le persone che si trovano nell'intersezione tra quelli che apprezzavano quello che facevate prima e quelli che apprezzano quello che fate dopo perciò queste due sfere concettuali c'è una zona centrale in cui la sfera dell'una si sovrappone alla sfera dell'altra ecco queste persone qua che stanno nell'intersezione fra i due pubblici quelle vi seguiranno e in realtà sarà difficile però espandere la seconda sfera più piccola che partirà molto più piccola della prima avendo alle spalle una reputazione pubblica costituitasi in un settore molto diverso da questo è quello che è successo alla Rowling certo voi potreste dire sì però i romanzi comunque investigativi della Rowling hanno comunque venduto tantissime copie sì ok ma che frazione sono rispetto a quelle che hanno venduto alle copie che sono state vendute degli libri di Harry Potter sono un rapporto non lo so non ho fatto i calcoli ma secondo me se è un ventesimo è dir tanto e non è molto distante la questione sarà un ventesimo una quantità paragonabile fra un ventesimo e un cinquantesimo se partite come autori di trash comico per lettori gut e poi a un certo punto decidete che invece volete passare a impegnata letteratura che indaga le tematiche del fine vita quanti lettori ovviamente più poi sono lontane le due cose minore sarà la percentuale di coloro che vi seguiranno non vi voglio appunto dare una risposta a questo proposito perché una risposta non c'è una risposta buona per tutti non c'è dovete trovarla voi siate consapevoli che cambiare rotta comporta questi rischi comporta questi problemi sappiatelo e che è più difficile cambiare rotta quando si ha già avuto successo molto più difficile più successo avete a un certo punto maggiore sarà la forza diciamo contenitiva le palle di ferro che vi trascinerete indietro quando cercherete di uscire da quel successo per andare in altre per esplorare altre direzioni non vi voglio spingere né da una parte né dall'altra voglio soltanto darvi gli strumenti per avere consapevolezza di quello che potrebbe succedere qualora vi trovaste in determinate situazioni terzo punto allora una delle differenze maggiori tra autori destinati ad aver successo e gli autori che non hanno questo destino è la loro consapevolezza potremmo finire mettere un punto è la loro consapevolezza ma nello specifico e sarebbe giustissimo nello specifico è che gli autori destinati ad avere successo sanno di avere molto più controllo sulla traiettoria delle loro vite professionali rispetto agli autori medi gli autori medi tendono più frequentemente a pensare di che il fatto sia in qualche modo già scritto che appunto o perché uno ha talento o perché è scritto nel fatto di aver successo o di fallire lo stesso modo secondo di quanto uno sia sicuro di sé è fiducioso ecco spostano al di fuori delle loro azioni al di fuori di quel che possono o non possono fare le tutte le il grosso dei fattori che decideranno del loro destino quindi li spostano fuori di sé e questo caratterizza più frequentemente molto più frequentemente gli autori che non sono destinati ad aver successo gli autori che sono destinati ad aver successo sono quelli che un pochino prendono le redini della questione o dall'inizio oppure magari ci si ritrovano per caso ma invece che farsi sopraffare decidono di capire cosa è successo e cercare di padroneggiare il procedimento anche a procedimento avviato mi ritrovo con un volante in mano su una macchina che sta scendendo da una discesa puoi dire ah ok morirò tutti e inizierai a recitare il rosario oppure dire ok ci sono tre pedali sotto schiaccio il primo no sta andando più forte schiaccio il secondo non succede niente schiaccio il terzo il terzo ferma la macchina ok questo tipo di discorso allora come diceva Morpheus in Matrix alcune regole possono essere eluse altre infrante quando si parla del livello dell'avere controllo sulla traiettoria delle vostre professioni ci saranno moltissimi ostacoli sul vostro cammino e moltissimi di questi una grossa fetta di questi direi potranno essere evitati alla radice prevenuti cioè potranno non affacciarsi mai sulla vostra sul vostro percorso semplicemente grazie alla consapevolezza della loro presenza e azionando delle contromosse in anticipo quindi con comportamenti lungimiranti si possono semplicemente non sperimentare mai molti dei problemi che vengono magari incontrati dalla stragrande maggioranza degli altri autori che tentino di fare la scalata alle case editrici o alle big o alla pubblicazione internazionale eccetera eccetera un esempio prendiamo come esempio la mia situazione personale moltissimi autori lamentano il problema di farsi pubblicare da dei buoni editori e dicono ma la prima domanda che fanno a chi ce l'ha fatta è come fa mi consigli una buona casa editrice con cui pubblicare oppure come faccio a farmi pubblicare dalle case editrici con cui che hanno pubblicato te perché perché loro ci provano non ci riescono e non ci riescono perché non hanno messo in atto prima quei comportamenti virtuosi che gli avrebbero impedito di ritrovarsi in quel problema io non ho lo sapete per chi non lo sapesse ve lo dico adesso io ho scritto ho pubblicato sette romanzi e nessuno di questi romanzi è stato scritto senza che io sapessi già con accordo preso a quale editore lo avrebbe pubblicato quindi solo dopo che avevamo siglato un accordo anche solo di massima con l'editore io ho iniziato a scrivere ciascuno dei miei libri e questo era vero tanto con Silele Edizioni micro editore della Bergamasca che ha dato alle stampe due dei miei primi libri ed è stato vero tanto quanto con PM Edizioni del gruppo Mondadori e con un altro grosso editore che 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 stava per pubblicarmi e da cui poi io mi sono sfilato perché non mi convincevano le condizioni contrattuali stessa situazione in tutte le volte io che giocavo d'anticipo quindi studiavo curavo il mio stile preparavo una scaletta facevo un'analisi dell'ambiente del mercato sapevo trovare i punti che mettevano in risalto le meccaniche di comportamento i gusti della nicchia eccetera eccetera io le inserivo nelle mie nei miei responsi nei miei pitch quando li presentavo alle case editrici le case editrici guardavano questi pitch l'editor mi chiamava o mi scriveva la mia e mi diceva cavoli finalmente uno che sa di cosa sta parlando è una boccata d'aria ma che studi hai fatto da chi hai studiato faccio guarda questa cosa qua l'ho imparata da me l'ho capita la insegno recentemente sono passato a dire questo e lì la insegna più persone che ci mandi autori migliori quindi questa è una classica situazione in cui è un classico problema che io non avrò mai anche il problema dell'editoria a pagamento che è un po' più downgrade è un problema più basilare è più facile sapere che esistono gli editori a pagamento e che 99 volte su 100 non è la cosa più intelligente pubblicare con loro ormai è facile è una informazione onnipresente in internet non così altre questioni come quella che vi ho detto poco fa però appunto problemi di questo tipo possono essere prevenuti alla radice con la consapevolezza quindi studiando informazioni che vi mettano in guardia da questi problemi e magari vi mettono anche le soluzioni davanti che è quello che abbiamo fatto con le raccomandazioni che abbiamo messo soprattutto nei primi tre moduli dello scrittore speciale 1, 2, 3 e nei primi tre moduli dello scrittore acclamato 1, 2, 3 che sono i moduli di mentalità che è il modulo sull'ambiente editoriale sulle meccaniche dell'ambiente editoriale e il modulo sul come stabilire e fare strategie sulla propria rotta al suo interno e sono speculari da una parte e dall'altra speculari non vuol dire che sono uguali l'una è diciamo la premessa e la seconda si innesta su quello che è stato detto nella prima ok e questo è vero per la non la maggior parte dei problemi ma sicuramente con tutti i problemi che si presentano più spesso quasi tutti i problemi che si presentano davvero spesso possono essere semplicemente prevenuti alla radice per questo io vi dico il metodo c'è per riuscire a farcela se lo seguite e lo fate vostro lo capite lo applicate al vostro caso trovate il modo di essere fedeli a voi stessi mentre mettete in pratica il metodo non potete sbagliare non vi assicura di diventare degli autori di best seller perché nessuno può assicurarvelo chiunque vi dica che può mente chiaramente però il metodo c'è per evitare tutti i problemi che fanno naufragare ai primi passi ai primi passaggi tutti gli altri detto questo non tutti i problemi possono essere evitate o prevenuti la strategia non sarà mai accurata al 100% nessuna delle strategie che voi potrete fare per i vostri libri sappiatelo mettete via l'idea non potranno mai essere accurata al 100% una strategia che si dimostri accurata al 70% non è mica male come risultato assolutamente lo scrittore che va lontano sa comprende questo fatto e lo accetta e cioè accetta di non poter controllare tutti i possibili problemi che il mondo gli getterà addosso perché non lo potrete fare voi non avete il controllo sul mondo non avete il controllo sull'ambiente in cui vi troverete a navigare voi potete controllare solo il modo in cui farete fronte agli ostacoli che vi arriveranno questa è l'unica cosa su cui avete pieno controllo per però appunto perciò barra però avete bisogno di essere preparati di sapere che di ostacoli se ne presenteranno a voi e che dovrete far fronte a imprevisti che ci saranno delle cose che non andranno come vorreste niente panico è normalissimo ce ne saranno sempre tutti gli autori ne trovano qualcuno in alcuni casi si tratterà di aspetti di cui eravate consapevoli ma che non vi aspettavate che avrebbero avuto un impatto così forte sul vostro caso specifico e invece scoprirete che magari per motivi stupidi per motivi totalmente aleatori su di voi si abbatteranno con forza altre volte saranno proprio cose che nessuno si sarebbe potuto immaginare ad esempio non lo so magari grandi cambiamenti epocali sul modo di fruire le storie oppure che qualche grande autore pubblica subito prima di voi un libro che è molto simile al vostro solo scritto meglio e con dietro una promozione gigante dalla casa di TG che lo pubblica e siete fregati sappiate che qualcosa di questo tipo succederà alcune di questi scossoni di questi colpi di questi ostacoli saranno piccole cose sappiate che potrebbero invece anche essere cose più grosse come quest'ultimo esempio che ho fatto fa parte del gioco e lì non è diverso che prendere l'automobile per muovervi in strada sappiate che prima o poi un incidente lo farete potrebbe essere che grattate la portiera potrebbe essere che tamponate qualcuno che fate un frontale abbiate cautela e guidate con prudenza ok questo è un po' il consiglio che vi do tenendo anche presente che rientreranno all'interno di questi ostacoli che si frapporranno fra voi e il raggiungimento del vostro sogno di scrittura faranno parte anche aspetti che non avranno niente a che fare con la scrittura né col mondo dell'editoria magari potrebbero essere problemi di salute o potrebbero essere tematiche problematiche familiari esterne alla vostra volontà potrebbe succedere che un domani una persona a voi cara ha bisogno di assistenza costante ha bisogno di essere sorvegliata 24 ore su 24 per 4 mesi di tempo voi avevate una scadenza con un editore che aveva scommesso tanto su quel libro che aveva dato la chance la chance della vostra vita voi sarete costretti a fare una scelta prendervi cura della persona cara oppure afferrare la scelta della vostra vita e lì dovrete e quello sarà un ostacolo che vi spaccherà in due vi spaccherà semplicemente in due poi ciascuno faccia le sue scelte io so benissimo cosa sceglierei in questa circostanza però e non vi dirò cos'è ovviamente scherzi a parte quando si presenteranno queste situazioni voi sappiate che fa parte del gioco perché non è possibile controllare tutte le variabili le variabili non le controllerete mai quello che potete fare è fare tutto quello che potete fare per essere pronti per avere più risorse possibili a disposizione per far fronte quanto meno agli ostacoli e ai problemi che più probabilmente incontrerete e quanto tutto il resto non metteteci troppa 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 ansia non abbiate troppa ansia di raggiungere per forza il risultato che avete in mente subito questo mondo questo percorso questa professione ha tra i suoi lati veramente positivi il fatto di non essere una di quelle di quelle scelte di vita traiettorie di vita che hanno una data di scadenza fissa come potrebbero essere come potrebbe esserlo invece per esempio l'atletica puntate alle olimpiadi sapete che avete un numero di anni molto preciso e molto piccolo per riuscire a realizzare quell'obiettivo superato il quale il corpo ha un decadimento fisico e non riuscirete più è fisiologico e non riuscirete più a essere a quel livello lì la scrittura non è così diventare dei professionisti della scrittura non significa fare tutto subito non significa ottimizzare o massimizzare tutte le variabili non significa diventare dei power player dei min maxer della scrittura significa saperlo fare all'occorrenza ma soprattutto essere contenti della strada che state prendendo vivere una vita piena ricca piacevole soddisfacente una vita con del significato grazie anche alla scrittura cercate di trovare il modo di implementare queste parti nella vostra vita tutti questi piccoli tasselli e i molti molti altri che sono contenuti nello scrittore speciale nello scrittore acclamato e negli altri corsi di rotte narrative che sono il frutto della mia esperienza di quelli che sono i problemi che più frequentemente si frappongono e fanno intralciare incespicare chi faccia questo cammino una volta che avete fatto tutto quello che è in vostro potere fare per essere preparati semplicemente zanno in spalla e iniziate ad andare a camminare ok ho finito ci ho messo 56 minuti ho parlato tantissimo non sto vedendo vostri vostri commenti vi ho ammutoliti tutti ragazzi l'ultimo commento è delle 9 e un quarto quindi o vi siete tutti addormentati voi 41 che siete connessi adesso che è già un po' che siete sopra i 40 o se no adesso iniziate a scrivere ragazzi ditemi se avete dei commenti delle domande delle curiosità se volete che approfondisca qualcuno di questi aspetti che vi ho snocciolato qui qua fa caldo io sto sudando mi domando com'è possibile che fuori ci sia vento ma che qua non ci sia nemmeno un alito di di aria però fa niente quindi ragazzi questo era il discorso che vi volevo fare oggi vi volevo spiegare che ci sono delle cose che rendono più facile vivere una vita armoniosamente intrecciata alla scrittura e che alla lunga la sincerità è qualcosa che vi premia essere sinceri nei confronti di voi stessi essere sinceri nei confronti del pubblico che vi scegliete sono aspetti molto più importanti di quanto forse a qualcuno potrebbero sembrare e la scrittura può assolutamente essere per me lo è stata e lo è anche per altri per parecchi altri miei corsisti uno strumento per conoscere se stessi ho avuto uno studente privato che di recente negli ultimi mesi mi ha spiegato che aver iniziato a seguire rotte narrative e i miei insegnamenti ha salvato il suo matrimonio e questa è una cosa che ovviamente mi ha dato un sacco di piacere ma è una delle conseguenze di questo fatto che vi sto spiegando di questo di cui stiamo parlando questa sera gli scrittori di successo non sono necessariamente gli scrittori con più predisposizione per diventare bravi non sono necessariamente gli scrittori con la maggior capacità tecnica non sono necessariamente gli scrittori che avevano la strategia migliore quando sono partiti no sono di solito gli scrittori che si trovano nelle migliori condizioni per continuare a fare delle scelte non perfette ma quanto meno buone il più a lungo possibile con tenacia e con costanza e questo è collegato a ciascuno dei punti che vi ho detto che vi ho spiegato prima allora vedo che io qua non sto vedendo commenti quindi forse sono io che non li visualizzo provo un attimo a collegarmi anche dal pc per vedere se magari non ci siano delle strane convergenze provate a scrivermi qualcosa in chat anche soltanto ciao che così capisco che se non mi arriva niente sono io che non sto vedendo e invece dovrei vedere i vostri commenti io intanto qua provo a cambiare account e a connettermi alla mia stessa diretta con un altro con il mio account privato con cui ascolto io i video quando sono in giro vediamo vediamo qua e infatti ecco che io l'ultima l'ultimo messaggio che vedo qua sul cellulare è il messaggio di Elia che dice il demone dello scrittore delle 9 e 15 invece vedo che ce ne sono vabbè leggo da qua sotto buonasera Joe buonasera Laura Dennis Dennis scrive ho una curiosità sono mai stati realizzati film e serie tv esteri fantasy sulla base di romanzi fantasy italiani film e serie tv esteri fantasy non lo so così su due piedi non me ne vengono in mente poi boh sì qualcuno potrebbe dire eh vabbè però Pinocchio è fantasy non è cioè proto proto fantasy che boh quindi recenti beh so che è in uscita però non è estero perché è fatto da Mondadori dovrebbe essere un cartone animato basato su Drago Nero libro che peraltro mi sono comprato giusto in questi giorni e che non avevo ancora letto che leggerò appena avrò l'occasione sicuramente qualcosa c'è stato forse oh dio Geronimo Stilton penso proprio di sì quello sicuramente sì le Winx che potremmo definirlo un fantasy credo mi pare forse mi confondo con un altro cartone animato altri non me ne vengono in mente Dennis sempre domanda è un'ambientazione realistica o scrivendo romanzi italiani dobbiamo mettercela via? ah no scusa un'ambizione è un'ambizione realistica scrivendo romanzi italiani dobbiamo mettercela via allora per com'era la situazione del mercato fino a tempi molto recenti le speranze sarebbero state molto molto basse per quello che sto vedendo succedere nel mercato italiano del fantasy da 6-7 anni a questa parte no non è qualcosa di impossibile non è più qualcosa di impossibile anche se forse potrebbe non avvenire a breve ho iniziato ad averlo mal di gola fermi un attimo ci voleva vediamo se mi torna la voce ah sì 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 molto meglio Laura a me piace scrivere come faccio a capire se è meglio continuare o è meglio smettere eh eh Laura ti piace scrivere molto bene la domanda che ti dovrei fare una serie di domande la prima domanda è ti piace scrivere in una dimensione privata o ti piace scrivere per un pubblico le due cose hanno diramazioni molto diverse se ti piace scrivere per qualcuno che conosci allora puoi scrivere assolutamente e puoi anche toglierti dalla agitazione e dall'ansia di dover pensare a una pubblicazione benissimo puoi scrivere senza pubblicare se vuoi scrivere per te stessa o per persone che conosci se invece vuoi scrivere per un pubblico eh sappi che sarà probabile che dovrai confrontarti con una serie di situazioni quelle di cui parliamo noi di rotte narrative qui su questo canale e di cui ti ho parlato anche questa sera e di conseguenza devi saperlo tu in base alle difficoltà che incontrerai in base alla gratificazione che ti dà e in base a tutte delle cose che io non conosco di te se questa strada possa fare il caso tuo oppure no Erika buonasera forse la domanda è banale ma non ha senso in questi casi ricorrere ad uno pseudonimo nei casi di qualcuno di molto famoso che passi da un genere all'altro ricordatevi ragazzi di ripetere sempre a cosa fate riferimento con la vostra domanda quando scrivete una domanda perché io molto spesso le vostre domande nelle live le leggo dopo mezz'ora o venti minuti o dieci minuti se è questa cosa che ho appena detto se era la cosa corretta che intendevi lo pseudonimo se hai alle spalle un grosso successo di solito non dura a lungo siamo nell'era dell'informazione e nell'era dell'informazione i segreti non esistono più il mantenere un dato segreto è sempre più difficile se ne sono accorte tante persone che hanno in vari modi tentato di fare le furbe non fare le furbe per forza con un'accezione negativa ma che hanno tentato di mantenere l'anonimato prendi per esempio il caso di Lara Manni autrice fantasy degli anni 2000 che venuta fuori un po' dal nulla aveva ricevuto delle recensioni eccellenti da circoli letterari importanti eccetera eccetera con queste storie fantasy formulari abbastanza normali e a un certo punto era saltato fuori che questa Lara Manni altri non era che Loredana Lipperini una celebre conduttrice radiofonica e non c'è voluto poi così tanto tempo prima che saltasse fuori nel momento in cui la seconda identità riceve una dimensione di successo non necessariamente paragonabile alla identità primaria che deve essere nascosta ma anche tipo solo un decimo di quella primaria quando cominciano a essere nell'ordine delle migliaia le persone che sanno della tua esistenza le magagne le trovano perché tutto viene tracciato tutto lascia delle tracce qualcuno si lascia trappelare l'informazione sbagliata in casa editrice qualcuno che non doveva leggere la mail la legge magari per un mese se la tiene per sé poi di nascosto una sera che è ubriaco la fa dire e queste sono cose che succedevano anche prima figuratevi con la tracciabilità con le mail con la gente che utilizza account condivisi per accedere a informazioni riservate non è possibile tenere questo tipo di segreti anche i segreti meglio custoditi liccano escono quindi non si riesce a tenerli nascosti alla lunga non in questa epoca non è più un'epoca di segreti infatti chi vuole insabbiare le informazioni non è che le tiene nascoste le lascia trapelare in modo controllato in mezzo ad altre informazioni di disturbo in modo che siano equamente plausibili è l'unico modo e anche gli spin doctor professionisti fanno così quando non vogliono che una cosa si sappia a volte sono loro a farla uscire ma la fanno uscire in contesti che sminuiscono quell'informazione la denigrano la fanno sembrare stupida la portano all'eccesso aggiungono pochi dettagli implausibili non si riesce a tenere segrete le cose questo lo sanno i professionisti che devono celare segreti di stato figurarsi chi deve inventarsi una pseudonica Elia ah ci sono domande forse non le vedi ecco qua Joe spesso le case editrici chiedono una sinossi del romanzo e anche se non lo dicono direttamente consiglia delle sinossi dettagliate che spiegano la trama e le tematiche del libro formulate in un modo un po' opinabile Joe questa domanda o forse l'ho letta male fammela rileggere spesso le case editrici chiedono una sinossi del romanzo e anche se non lo dicono direttamente consiglia delle sinossi dettagliate che spiegano la trama e la tematica del libro è una domanda che non ha molta inerenza con la tematica di questa sera Joe però visto che non ci sono molte domande ti rispondo lo stesso no allora le case editrici chiedono una sinossi del romanzo vorrebbe invedere certo devi trovare il modo di stabilire un'interlocuzione con lo staff di una casa editrice e questo può avvenire in vari modi modi che talvolta le case editrici specificano sul loro sito o sulla loro newsletter o sul loro gruppo Facebook Instagram quel che è indicando le modalità che vogliono che vengano seguite questo è vero per la maggior parte delle case editrici quindi semplicemente guarda cosa ti dicono esplicitamente e fai quello no non è vero che anche se non lo dicono esplicitamente fare una sinossi lunga e dettagliata sia meglio perché se a me casa editrice che quando apro le candidature spontanee mi si riempie la casella di 150 proposte il 90% delle quali strampalate ne vedo una che invece di avere le due pagine apro il file word e vedo che sono due pagine invece che di essere due sono quattro io la chiudo e passo alla prossima perché in quel tempo che mi ci vuole per vedere se quella è buona ne leggo altre due e quella lì non è che perché è più lunga più probabilità di essere buona rispetto alle altre anzi non ha rispettato le caratteristiche che io avevo specificato che doveva avere la proposta quindi più probabilmente l'autore è un piantagrane e uno che non ascolta quello che gli si dice quindi a priori non voglio neanche perdere il mio tempo con esso ok quindi occhio buonasera Tommy buonasera a Frida buonasera Laura ciao grazia Lucas ma quanti siete avete delle fluttuazioni prima eravate 50 adesso siete scesi di nuovo Luca Metal in un Grimdark è giusto mancare risaltare marcare risaltare la crudeltà di alcuni personaggi non stiamo parlando di questo adesso non è che tutto 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 Venkman in un certo senso possiamo contare Dylan Dogg come film straniero su un'opera italiana fantasy perché nonostante il fumetto sia horror il film americano è un brutto urban fatto sì è vero quello potremmo potremmo considerarlo tale e io l'ho visto una volta non ricordo niente di quel film a parte che non c'era Groscio e che Dylan Dogg non era Dylan Dogg non ricordo altro Laura oggi ricevuto risposta di rifiuto da una C è importante mi ha fatto comunque piacere avranno letto solo la sinossi io vado avanti sì beh di solito se leggono più che la sinossi nella lettera di rifiuto te lo dicono no non è vero ci sono anche casi in cui dipende quanto era quanto dipende dal caso se il tuo libro era molto bello potrebbero specificare il motivo del rifiuto è capitato ho visto più di una lettera di rifiuto di questo tipo che diceva il testo è interessante bla 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 però non lo possiamo pubblicare perché non abbiamo la collana adatta non siamo noi gli editori giusti per questo libro oppure potremmo cioè saremmo stati gli editori giusti per questo libro in un altro momento perché magari stiamo per pubblicare fra un anno un libro simile che è già in fase è già stato contrattualizzato e se sappiamo che fra un anno esce questo non è che ti contrattualizziamo a te sapendo che un anno e mezzo dopo o due anni dopo uscirà il tuo che è molto simile non sempre te lo spiegano però questi sono altri esempi di ostacoli su cui non avete controllo e a cui dovete anche essere essere pronti quindi sì sì è comunque un bel segno che ti abbiano risposto Laura perché di solito si risponde soltanto a chi non ha l'aria di essere un piantagrane e questo c'è un video qui sul canale se volete andatevelo a cercare sui motivi per cui le case editrici non vi non vi spiegano come mai vi rifiutano i manoscritti papapac sì sì tu comunque vai avanti vai avanti normale Laura tranquillamente sempre avanti Tommy il genere distopico è inerente al post apocalittico? off topic Tommy Dennis ha senso rendere disponibile gratis un romanzo per raggiungere più persone possibili? ragazzi fatemi domande però che abbiano a che fare con la mentalità perché davvero non che ci sia qualcosa di sbagliato nelle domande che state ponendo sono tutte domande interessanti senza alcun dubbio però questi questi incontri che facciamo noi il giovedì sera li facciamo tematici in modo da permettere a chi in futuro vedrà queste dirette oltre che permettere loro di ascoltare la 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 lezione per modo di dire che queste sono spesso più che altro delle chiacchierate vogliono anche essere dei modi per aggregare in un unico punto diverse sfaccettature di trattamento del medesimo tema e perciò è questo il motivo per cui diamo una tematica al Q&A e il Q&A di questa sera ha come tema l'autore che va lontano quindi non si parla di piccole accortezze strategiche a volte lo facciamo se vi vengono in mente domande circa qualcosa di ciò di cui abbiamo parlato questa sera o altre cose comunque in termini di mentalità scrivetemelo se no ne parleremo sicuramente in un altro momento buonasera Augusto Laura io ho ringraziato per l'attenzione senza fare domande bravissima Laura d'accordo allora questa sera visto che non sembrano esserci molte domande siete tornati in 42 intanto ci possiamo fermare qui la mia gola sicuramente ringrazia vi do appuntamento ai prossimi video e niente visto che avete preso tantissimi dei nostri corsi nell'ultimo mese studiateli 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 e mi raccomando non ho studiateli una volta sola perché sono pensati per essere visti più volte d'accordo? stanno intanto arrivando delle altre domande ah no si Thomas scrive diretta importante e profonda grazie professore prego Thomas domanda come consiglia di approcciarsi per creare una community off topic mannaggia grazie a te nessuno vabbè dai ti rispondo lo stesso Thomas perché hai fatto la captazio benevolenza come consiglia di approcciarsi per creare una community dipende dal tipo di community che devi creare vai a cercarti i punti dove più probabilmente quel tipo di lettori tende ad aggregarsi e a discorrere di tematiche relative al libro che vuoi propogli il che potrebbe significare creati la community su che ne so Wattpad o potrebbe voler dire creati una community su gruppo facebook thriller storici ed intorni crearsi una community cosa vuol dire? potrebbe a seconda della piattaforma e del tipo di attività che vuoi fare potrebbe voler dire invece aprire una newsletter e iniziare a scrivere una serie di mail in una sequenza prestabilita in una follow up sequence che imposti in un autorisponditore nella quale metti una serie di racconti quello lì può essere un funnel ti diventa un funnel di marketing per poi preparare il momento in cui pubblichi un libro chiunque si iscriva a questa mailing list riceve pezzi di story dipende troppo dal tipo di strategia che vuoi mettere in campo dal tipo di strumenti con cui ti senti più a tuo agio utilizzare per farti promozione cosa ti causa meno stress cosa è più adatto per il tipo di pubblico che vuoi aggregare sono tutti aspetti che sono spiegati in dettaglio nello scrittore acclamato che è quello proprio destinato a aiutarvi a creare la community attorno al vostro libro prima che il libro esca e a fare più in generale a permettere al vostro libro di incontrare tante persone non parlavo di accortezze strategiche per guadagnare dice Dennis ma più di cuore e mentalità come specificato per parentesi ad esempio far passare una parte di noi agli altri non so se è così tanto off topic nel caso chiedo scusa vado a rileggermela Dennis ha senso rendere disponibile gratis un romanzo per raggiungere più persone possibili ad esempio se gli scoppi non sono guadagnare ma far viaggiare la tua storia il più possibile nel mondo ok no va bene allora ha senso rendere disponibile gratis un romanzo per raggiungere più persone possibili allora non ho mai approfondito la questione a livello di dati non ho mai fatto indagini numeriche e non mi vengono in me sicuramente qualcuno l'avrà fatto io al momento non mi soviene a riguardo di quello che sto per dirti però ricordo di aver sentito qualcuno dire questa cosa prendila con beneficio assolutamente con il dubbio con il beneficio del dubbio mi risulta che di nuovo potrebbe essere una stupidaggine quindi vai a verificare ma i libri che vengono o i racconti che vengono messi a disposizione sugli store gratis vengono scaricati tantissimo e letti pochissimo questo è un principio di mentalità in realtà piuttosto curioso che ho studiato anch'io l'ho scoperto in tempi in anni recenti due tre anni fa poco prima proprio l'ho studiato mentre mi preparavo a livello anche di marketing e di impostazione aziendale per creare rotte narrative ho scoperto che le persone che pagano poco qualcosa sono più propense a dar poco valore a quello che hanno ottenuto in quel modo e se ci pensi e non si parla solo di soldi si parla in generale se è facile ottenere qualcosa tendiamo a dar meno importanza a quella cosa se qualcosa ci viene regalata e non sapevamo neanche la sua esistenza da nostra mamma mettiamo a caso quando siamo giovani ce la regala e dice questa è molto bella provatela la guardiamo che cos'è non mi interessa se invece quella cosa prima di averla prima l'abbiamo scoperta poi la volevamo e non siamo riusciti a ottenerla allora ci siamo impegnati e non siamo riusciti a ottenerla e siamo impegnati di più abbiamo speso notti insonni e alla fine siamo riusciti ad averla quella seconda cosa magari è la stessa cosa che nostra mamma ci aveva regalato così quella cosa per noi avrà un'importanza molto maggiore quindi per rispondere alla tua domanda non è detto che mettere una storia gratis ti permetta di raggiungere un maggior numero di cuori oppure una maggiormente distribuita intensità complessiva di comunicazione paragonabile a metterla in acquisto disponibile in acquisto e è una di quelle cose che possono essere estremamente antiintuitive lo sono però effettivamente non è un caso che ci sia una correlazione molto diversa fra gli studenti di rotte narrative che studiano lo scrittore speciale e quelli che pubblicano buoni libri che studiano quei corsi pubblicano effettivamente buoni libri e hanno successo rispetto a quello che accade a moltissimi altri corsi che hanno anche qualità magari molto inferiore ma soprattutto costano molto di meno i nostri corsi noi non li mettiamo mai a basso prezzo e lo facciamo anche per questo motivo non è l'unico chiaramente lo facciamo anche per questo motivo ciò per cui si investe tanto ciò per cui dobbiamo combattere è ciò per cui inconsciamente siamo portati ad avere un'attribuzione di valore maggiore motivo per cui per rispondere ti ho fatto un esempio che da un'altra da un'altra area dell'esistenza però è la stessa applicazione e quindi per rispondere alla tua domanda no direi di no può essere una strategia può essere una valida strategia di marketing quella di mettere come diciamo lead magnet una storia gratuita di un certo tipo con certe caratteristiche in assoluto non lo è perché ripeto le storie gratis funzionano solo se prima le fai desiderare se trovi un modo di farle desiderare e prima di dargliele prima di darle e perciò ecco questa questo è per darti una risposta nessun y59 scrive prego stefania nella mail arrivata era indicato come un Q&A a tema libero forse per questo arrivano tante domande fuori tema ah sì mi sa che deve esserci stato un errore da parte del mio staff pardon allora adesso stanno arrivando le domande dopo che vi ho salutato e vabbè dai vi rispondo se sono domande inerenti mi fa piacere tanto ho ancora dell'acqua come si fa scrive Davide a non rimanere schiacciati dalla pressione sociale e continuare a scrivere dipende da te allora la domanda non è come si fa a non rimanere schiacciati dalla pressione sociale e continuare a scrivere la domanda è come mai hai questa pressione sociale che senti schiacciarti o meglio sei sicuro di riuscire che scrivere per un pubblico sia la cosa giusta per te stante il fatto che subisci così tanto il peso della pressione sociale cioè devi problematizzare questa domanda che hai fatto e io non posso darti una risposta perché non ti conosco non conosco il tuo caso specifico io ti posso portare casi che conosco in prima persona ti porto il mio quando sono questioni delicate è sempre meglio portare il mio caso in prima persona perché so che io non mi offendo quando vi dico la verità su cose che che capitano a me io parto come un timido estremo quando chi mi avesse conosciuto a dieci anni o a cinque anni o ancora a quattordici quindici e avrebbe conosciuto un bambino di una timidezza estrema un bambino che detestava il conflitto tutt'oggi in realtà non lo apprezzo però all'epoca era proprio qualcosa che mi bloccava era qualcosa che mi faceva sentire totalmente inadeguato nei contesti sociali se qualcuno alzava la voce con me io mi chiudevo a guscio come un ricetto e avevo mille problemi mille ansie a livello sociale è una cosa che mi faceva soffrire perché in realtà a me piaceva stare con gli altri mi piaceva creare delle dinamiche con gli altri mi piaceva essere d'aiuto essere parte di un gruppo portare un valore aggiunto alle persone che mi incontravano e perciò ho fatto un percorso su me stesso per ovviare questo problema attraverso il teatro che ho fatto anni di teatro quando ero giovane poi ho fatto anche un piccolo percorso su di me con l'aiuto di una psicologa e poi con anche corsi con cose che alla fine mi hanno diciamo permesso anche l'ultimo step fondamentale è stato dopo aver scritto i miei romanzi prendere il coraggio a due mani e portarli in fiera portarli nelle fiere proporli vendere la mia storia chiedendo in cambio del denaro che era una cosa che a me sembrava di una insormontabilità assoluta e invece iniziando a farla perché ero determinato io volevo diventare uno scrittore a tutti i costi avevo chiara la mia missione avevo chiara la mia strategia e questa la forza di questo obiettivo di questa ambizione mi ha permesso di superare questo obiettivo e adesso tu mi veri io sono in grado di parlare a voi 40 persone la settimana scorsa ho parlato davanti a 500 persone allo stesso modo non ho più ansia sociale non ho più ansia da prestazione è sparito il come si chiama la sindrome dell'impostore che all'inizio c'era è sparito il problema il pericolo l'ansia del dire oh ma se queste persone pensano che io non sia capace che sono tutte quelle cose che sotto sotto da qualche parte le abbiamo tutti le persone sensibili come frequentemente sono gli aspiranti scrittori tendono ad averle più marcate però non posso dire che per tutti sia come è stata per me la mia può essere sicuramente una storia che può essere di ispirazione a tanti di voi motivo per cui ve l'ho raccontata e motivo per cui spesso prendo esempi del mio vissuto personale perché io avevo tante delle sfighe dei problemi che spesso hanno gli aspiranti scrittori e il mio è un caso in cui sono riuscito in vari modi diversi a venirne a capo e a raggiungere gli obiettivi che un tempo sognavo e che oggi sono la mia quotidianità non tutti ne ho di molto più ambiziosi che raggiungerò comunque tanto quanto perché la mia è una questione di metodo di metodo di applicazione di consapevolezza e sono gli stessi metodi che insegno anche a voi però ripeto siamo tutti diversi quindi la mia storia potrebbe non essere la tua spero di averti dato una risposta sufficientemente sufficientemente corretta e contemporaneamente pregnante adesso sono arrivate tutte le vostre domande ok bla 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 vediamo Y59 scrive l'aspetto della mentalità è quello che sento più difficile per me ci avrò tanto da lavorare sopra intanto assorbo cerco di metabolizzare il tutto per migliorare grande Chiara se un sottogenere piace abbastanza e ha tanto mercato ma un altro sottogenere piace di più e ha meno mercato potrebbe aver senso provare a scrivere in entrambi Chiara io allora quindi se un sottogenere piace abbastanza a te e ha tanto mercato ah no intendevi sempre al pubblico beh se piace abbastanza ha anche tanto mercato quindi li stai paragonando solo su un singolo elemento cioè quanto florido sia il pubblico di riferimento ce ne sono degli altri devi capire quanto piaccia a te scrivere l'uno e l'altro il discorso che facciamo prima se sei stata ad ascoltare è quel discorso lì se non sei stata ad ascoltare ascolta dall'inizio quando chiudiamo questo coso riparti da capo perché ho detto delle cose a questo riguardo e vai a riguardarti anche il Q&A sull'Ikigai I-K-I sì Gai G-A-I che sono molto importanti prego Dennis Augusto dopo aver iniziato il corso da editor ho iniziato a mettere a fuoco aspetti che avevo capito nello scrittore speciale ma non compreso aspetti come la centralità della fascia di mercato e beh sono aspetti fondamentali ed è chiaro che da qui che non significa che siano tutto niente preso da solo è regge tutto il resto niente però sono tutte quante tematiche importanti e quelle lì quella è una di quelle cose che se siete autori e avete chiaro quello che vi piace scrivere potete anche in un certo senso ignorare quanta vitalità ci sia in un determinato pubblico al di fuori di saper parametrare più o meno quello che vi aspetta in modo da non farvi false speranze o al contrario di sapere che potete aspettarvi un certo tipo di risposta facendo le cose per bene se invece sei un editor no lì devi conoscerlo come il mercato devi sapere perché gli autori parametreranno il loro grado di soddisfazione circa circa te anche sulla base del tipo di successo che il loro libro avrà e molte delle eventuali mancanze che avevano loro le attribuiranno a te se ti hanno pagato per quando ti hanno dato il libro e tu alla fine glielo hai dato indietro dicendo ecco fatto pubblica e perciò sì purtroppo alcune cose che un autore può permettersi di approfondire fino a un certo punto un editor no un editor deve sapere deve sapere cosa sta facendo perché lui è il professionista che si mette di mezzo tra l'autore e il pubblico Thomas nel figlio della mentalità non vorrei inciampare nell'attirare un pubblico che poi mi fa pensare accidenti a me ho già studiato una volta lo scrittore acclamato mi mancano ancora le quattro repliche guardate scusate tutte per il ritardo tranquillo Thomas non preoccuparti se vuoi ripetere la domanda che hai fatto prima perché non mi ricordo più ti rispondo se era inerente Davide la figura dello scrittore è distorta quando ho detto che stavo scrivendo un libro le persone pretendevano in due secondi pubblicassi che in due secondi pubblicassi e via così quando quello che volevo fare era solo studiare e scrivere prendendo il mio tempo ecco vedi Davide questo è un problema questo è un problema legato all'anomea che ha lo scrittore e agli stereotipi ai pregiudizi che circondano questa figura quasi tutti hanno un'idea completamente irrealistica di cosa significhi essere degli scrittori oggi c'è gente che pensa che automaticamente scrivendo un libro troverai qualcuno che ti pubblica e purtroppo anche molti autori pensano questa cosa e poi finiscono dritti nelle maglie dell'editoria a pagamento delle sue 10.000 costole costoline costolette e braciole varie ce ne sono tanti altri ci sono persone che tra questi pregiudizi e stereotipi pensano che scrivere sia un lavoro remunerativo mentre è uno dei lavori meno remunerativi che esista pur richiedendo un grado di impegno una professionalità molto elevata sicuramente non inferiore rispetto a quello che può essere il disegno professionale o essere tecnici ingegneri del suono il grado di consapevolezza tecnica che è richiesto da uno scrittore per fare bene il suo lavoro a livello professionale è lo stesso però non ci sono corsi di laurea triennali specialistici quinquennali che spiegano queste cose e la gente non sogna che ci siano non lo sogna e quindi pensa che uno scriva e poi dopo aver scritto pubblichino automatico dopo aver pubblicato venda tantissime copy perché la gente non fa altro che aspettare di leggere il pinco pallino invece no la gente vuol leggere solo gli stessi quattro autori sempre ed è difficilissimo e ci sono poche eccezioni per fortuna ci sono e sono in aumento però in certi non divagliamo però sì Davide la descrizione che mi stai facendo tu è la tua situazione come me la descrivi mi sembra quella di un autore che voglia scrivere per una dimensione privata quindi quello che potresti quello che potresti fare è spiegare alle persone che vuoi scrivere il tuo libro ma non è un libro che stai scrivendo per il pubblico bensì magari solo per qualche persona specifica che potrebbe essere anche soltanto sì sto scrivendo un libro ma in realtà che mi interessa davvero è il lavoro di ricerca che c'è dietro e perché avere un libro mi permette di darmi un obiettivo che mi aiuta a svolgere il processo dall'inizio alla fine e questo può essere una cosa bellissima può essere un modo per accrescere la tua cultura per arricchirti per qualsiasi cosa Dennis in effetti fare teatro può essere un utilissimo strumento anche per la scrittura tra le altre mille cose a cui è utile certo per me lo è stato per me lo è stato io avevo da piccolo avevo tre grandi passioni artistiche una era il disegno una era la scrittura e una era il teatro c'è stato un periodo piuttosto lungo in cui le ho portate avanti tutte e tre parallelamente poi una dopo l'altro ho dovuto abbandonarle ci sono comunque altri universi paralleli sappiate in cui io ho un canale che si chiama rotte figurative in cui insegno a disegnare e un altro rotte interpretative in cui insegno a recitare sì però mi è stato sicuramente molto utile ci sono un sacco di linee alternative dove faccio cose a caso sì lo dico spesso perché è vero ok riguardo alla community mi hai già risposto ah ok era quello lì top Adrienne parlando di altro quanto giocare a Skyrim professore l'ha influenzata quanto ha influenzato Magical e Skyrim Skyrim è un bel gioco con una narrativa abbastanza semplice non direi che mi abbia influenzato granché è un gioco che essendo un open world come in generale i giochi che possono essere giocati più o meno all'infinito si presta facilmente a diventare la tua comfort zone quindi non è uno di quei giochi che mi verrebbe da diciamo consigliare come diciamo ausili didattici all'apprendimento della scrittura perché a livello di scrittura non è niente di speciale ci sono piccole piccole eccezioni piccoli dialoghi ricordo un dialogo con un Kajiti in un posto dove mi ero fermato semplicemente un accampamento di Kajiti e sto vecchio Kajiti ha iniziato a tirare un pippone sulla razza dei Kajiti alla fine avevo la mascella per terra perché era bellissimo quel brano lì quella storia che raccontava e ci sono un po' di cosucce qui così qui e là in Skyrim però a livello qualitativo medio della sceneggiatura di Skyrim non è memorabile punti di forza di quel gioco che è uno dei miei videogiochi preferiti sono altri sono le atmosfere la colonna sonora la cura con cui hanno realizzato l'ambientazione però non è che ci sia granché di originale non è che ci sia granché di è semplicemente magistralmente realizzato quindi non direi che sia stato sai invece un altro videogioco con cui spesso viene confrontato Skyrim che mi ha influenzato a livello di scrittura The Witcher 3 mentre scrivevo The Witcher 3 scusa mentre scrivevo I segreti delle madri il mio terzo romanzo giocai a The Witcher 3 mi regalarono The Witcher 3 lo giocai con il mio coinquilino di allora che non divaghiamo e man mano che scrivevo The Witcher 3 di nuovo che scrivevo I segreti delle madri i beta lettori iniziarono a farmi notare che i dialoghi dei personaggi erano meglio di prima e che c'erano delle cose delle questioni delle caratterizzazioni di personaggi secondari che gli piacevano tantissimo e siccome mi era già capitato con le colpe dei padri con il mio primissimo romanzo di accorgermi attraverso i feedback di alfa e beta lettori che qualcosa che stavo leggendo mi stava influenzando lo stile di scrittura in quel caso era il Marco Visconti di Tommaso Grossi un fetente libro dell'ottocento mi spiace voi che siete amanti di Tommaso Grossi è fetente lo stile di scrittura di quel libro il punto è bato accettatelo è un dato di fatto dato quello avevo già le orecchie ritte per questo principio cioè del mio essere ancora diciamo assorbente che ero ancora una spugna circa lo stile di scrittura di ciò che leggevo mentre scrivevo ho detto ma che cosa sto leggendo di diverso rispetto a quando ho cominciato stavo leggendo It di Stephen King cosa che avevo fatto apposta perché volevo essere influenzato da quel tipo di stile oltre a leggere altra roba di Swanwick e altro e ho detto no non stavo non ho cambiato niente aspetta stai a vedere che è The Witcher e sì era assolutamente ho iniziato a farci caso e in seconda stesura ho saputo stimare in quale punto del romanzo che era un romanzone era un milione e duecentomila caratteri in quale punto ho iniziato a giocare a Skyrim perché la caratterizzazione dei personaggi secondari quelli che non c'erano nella scaletta e che buttavo semplicemente inventavo lì per lì man mano che facevo la prima stesura per permettere ai personaggi in scena principali di dire quella certa cosa di far emergere con una certa informazione risentivano dell'impronta stilistica dei dialoghi di The Witcher che invece sono fenomenali la scrittura di The Witcher 3 è una cosa meravigliosa e quindi quello sì vabbè ho divagato ragazzi non c'è tra niente con la mentalità se io scrivo fantasy può decidere di scrivere fantascienza può essere pericoloso sì Sofì pericoloso in termini di pubblico per quello che abbiamo detto prima sì Sofia se ha ancora tempo potrebbe tornare sul tema dell'approccio che ha utilizzato utilizza lei nei confronti della casa editrice grazie infinite diretta interessantissima allora il mio è semplicemente l'approccio della consapevolezza nelle case editrici dovete sapere ragazzi che gli editor incaricati delle acquisizioni sono abituati agli autori standard italiani quelli che berciano sui gruppi facebook di aspiranti scrittori sono abituati al loro modo di fare sono abituati a persone che dicono ah lo show don't tell non serve a niente basta leggere tanto quando tutti dicono una cosa e la maggioranza delle persone in quel settore fa fatica a ottenere un risultato quasi sempre c'è un nesso fra le due cose il mio approccio cioè il modo in cui io arrivavo dalle case editrici è semplicemente il modo che io vi impartisco che impartisco agli studenti di rotte narrative e cioè prima di metterti a scrivere dai un'occhiata al mercato per vedere se già nel mercato sono presenti opere che assomigliano a quello che hai in mente di fare tu perché probabilmente qualcuno ci ha già provato non una cosa uguale alla tua ma qualcosa di simile sì e se altri hanno già provato a fare qualcosa di simile a ciò che vuoi fare tu probabilmente dai loro successi o insuccessi puoi imparare molto possono aiutarti a prendere meglio le decisioni studiando le recensioni a quei libri puoi stimare a quali aspetti della costruzione della storia i lettori di quel target che compongono quella fascia di pubblico fanno più attenzione e quindi puoi sapere che quelle sono questioni da tenere in considerazione quando scrivi tu quando fai tutte queste cose a monte e dopo aver fatto l'indagine di mercato cosa che è spiegata nel modulo 3 dello scrittore speciale fai la scaletta del tuo romanzo modulo 4 curi lo stile di scrittura modulo 5 e poi magari ti costruisci anche un team di altri aspiranti scrittori che ti facciano da beta lettori e che ti permettano di accorgerti di eventuali spigoli o punti di forza del tuo libro così da valorizzarli o smussarli prima di presentarlo all'editor quando poi dopo aver fatto tutte queste cose tu presenti la tua candidatura all'editor e nella spiegazione dell'opera per dire in 5 righe di spiegare parli semplicemente del fatto che hai letto questo e questo libro che sono usciti l'anno scorso e 3 anni fa e che hanno venduto molto bene e molto bene presso pubblici simili dici che di conseguenza ho fatto questo e questo e questo in questo romanzo perché parlando di questa tematica ho pensato che bla 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 si rivolge a un pubblico di lettori prevalentemente femminili di età compresa fra quando mandi e poi ovviamente fai anche la sinossi e tutto il resto quando l'editor l'acquisition editor della casa editrice apre la tua mail e vede tutte queste cose capisce il grado di consapevolezza con cui hai affrontato quel tipo di procedimento e dice ma 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 da dove viene fuori questo non c'era niente di tutto ciò nelle ultime 50 proposte che ho scartato a priori quello che ho fatto io è stato semplicemente spiccare talmente tanto rispetto al livello desolante della competizione che non avevo neanche bisogno di scriverla mi è bastato fare la proposta in fase di scalettatura quando il libro lo stavo ancora scalettando lo stavo scalettando dove pensavo una volta che sarà pronto quale casa editrice potrebbe andare bene con questi romanzi si lee le edizioni subito mi ha subito detto beh tu Livio poi che hai anche studiato editoria all'epoca ero giovane sì 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 no certo se lo fai tu assolutamente Akron Books addirittura mi hanno chiamato loro PM edizioni è stato un po' più difficile il passaggio dall'editoria medio piccola alla grande editoria ho dovuto candidarmi io c'era una come si chiamava lo speed date letterario una competizione una gara di pitch ho mandato una candidatura ho vinto sono andato lì ho parlato con un editor poi ho parlato con un altro editor mi hanno fatto una proposta con una big non mi piaceva gli ho detto di no ho portato la stessa proposta che avevo preparato per la prima big a un'altra big mi hanno detto di sì è andata così e questo non ci sono segreti ragazzi se lavorate bene prima come vi dicevo nella lezione se lavorate bene prima non incontrate quei problemi dopo semplicemente non li incontrate per la vostra apparenza quei problemi non esistono ci sono circostanze in cui persone che hanno dei vantaggi intrinsechi magari perché sono nate nella famiglia giusta perché hanno il papà giusto con gli amici giusti o col conto in banca giusto quelle persone può darsi che non incontrino mai problemi che invece voi incontrerete di solito è così e bisogna fare un po' attenzione ad esempio ad ascoltare i consigli di persone di quel tipo perché magari sono consigli dati in totale buona fede consigli dati sulla base della propria sincerissima esperienza e consigli che se voi provate ad applicarli non vi danno buoni risultati perché? perché voi non eravate nella condizione di partenza di queste persone è difficile è complicata la questione me ne rendo conto la gente pensa che gli scrittori vadano che gli scrittori vendano tanto in automatico infatti gli amici si aspettano i libri in regalo è vero quella lì è una cosa buffissima y59 sì ma i disegni del prof io li voglio vedere anche io sto portando avanti sia la scrittura che il disegno tempo fa nessuna y59 avevo postato il disegno che avevo fatto per la copertina del mio primo fetente libro fantasy luce di luna sì ho scritto anche un primo fetente libro fantasy formularissimo ricorsivissimo che ho avuto il buon gusto di non pubblicare mai non che non ci abbia provato però grazie al cielo mi era stato fatto capire che faceva schifo e mi è stato fatto capire dal professor Cicala che oggi ogni tanto collabora con rotte narrative ed è stato importantissimo questo momento in cui non mi ha detto il tuo libro fa schifo mi ha lasciato capire che non c'era niente di interessante in quel libro ma ha fatto malissimo lì per lì dopo un po' però riflettendoci su è stato l'inizio è stato un momento importante di un cammino che avevo già intrapreso e che mi ha permesso di non bloccarmi nel livello dove si bloccavano quasi tutti cioè scrivere un libro cercare di pubblicarlo perché prima o poi sarei riuscito a pubblicarlo quel libro lì e non sarebbe andato bene non sarebbe andato come è andato Eternal War 1 il mio primo romanzo fantasy chiara scusa intendevo un genere con tanto mercato che mi piaccicchia e un genere con poco mercato che mi piace molto mi chiedevo se in questo caso potrebbe aver senso scrivere in entrambi ho capito chiara allora la domanda è legittima non è bisognerebbe vedere il caso specifico devi decidere tu non c'è una risposta corretta per te è più importante essere avere tante vendite cioè il tuo parametro per decidere se sei soddisfatto o meno del libro che hai pubblicato è il numero delle vendite oppure è il quanto quanto abbia dato a te il fatto di esserti confrontata con un pubblico magari più ristretto di lettori però su quelle tematiche del secondo genere non posso risponderti io dovrei conoscere te dovrei farti tante domande però è una cosa più da consulenza privata non da diretta non so se mi sono spiegato segnati di andarti a vedere domani dopo domani quando vuoi il Q&A su Likigai perché tratta molto quella tematica Stefania è incredibile come avessi le stesse passioni teatro disegno e scrittura poi purtroppo andando avanti ho dovuto fare delle scelte e capire cosa era solo un hobby e cosa poteva diventare un lavoro è normale si chiama crescere è vero è vero ah dai ah no comunque non ho finito di rispondere a nessuno Y59 ecco io all'epoca uno dei punti massimi della mia carriera di disegno di disegnatore totale autodidatta come del resto anche la scrittura in quel momento lì era fu disegnare la copertina di luce di luna e in una vecchia diretta ve l'ho anche mostrata quindi forse c'è caso che se la cercate nei vecchi video del canale lo potreste trovare se qualcuno qualcuno si ricorda in che video era e se era perché non è detto che lo fossi però se è in pubblico se è in chiaro e non era riservato solo agli iscritti della mailing list lo posti pure in chat il link a quel punto al video dove vi ho proiettato il disegno di luce di luna Frida vorrei scrivere romanzi ma mi sento spesso demotivata quando sono spenta emotivamente mi manca la spinta alla continuità e scrivo solo quando sono ispirata è possibile superarlo? grazie e scusi certo che è possibile superarlo anzi è necessario a mio modo di vedere superarlo siamo tutti quanti ondivaghi quando si parla di motivazione di voglia di fare le cose di energie interiori e siamo anche abbiamo anche molti dislivelli in base a quanta fatica ci comporti in metterci a scrivere per qualcuno è una cosa tranquilla che anzi ricarica per altri invece è qualcosa che richiede energie richiede stress e non significa che gli uni o gli altri siano meglio assolutamente no è proprio una variabile neutra ci sono grandissimi scrittori che fanno fatica a sedersi a scrivere la panacea per chi fatica a iniziare la scrittura è la continuità e nello scrittore speciale c'è un modulo apposta per darti tutti i consigli i trucchi le tecniche per aiutarti a trasformare una cosa la scrittura come attività che fai solo quando sei ispirata a una cosa che fai sempre o meglio che fai quando decidi di farla perché per molti è un fattore ostativo un fattore che proprio blocca completamente adrian the witcher 3 è più qualicativamente buono di skyrim riguardo alla narrativa si lo ammetto è oggettivo è proprio penso un dato di fatto che poi in realtà the witcher non saprei dire quale dei due mi piaccia di più in assoluto come esperienza di gioco tra the witcher e skyrim sono sincero ma la scrittura di the witcher è proprio non due spanne io penso di più sopra rispetto a skyrim sofia witcher 3 molto di ispirazione anche per me dialoghi profonditi di personaggi side quest esatto the witcher 3 è come dovrebbero essere scritti i videogiochi di quel tipo araki castrell noto che amore per scrittura e disegno vanno spesso a braccetto si potrebbe creare un altro corso e lo scrittore illustrante io non avrei granché da insegnare perché appunto ho abbandonato quella 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 professione non l'ho mai in realtà non l'ho proprio mai affrontata in modo professionale quindi non mi azzarderei mai a a a insegnarvi ma non sono qualificato per farlo come ogni tanto la gente mi chiede perché non fai un corso di poesia perché io non c'entro niente con la poesia ragazzi io vi mi permetto di insegnarvi solo questioni che ho sperimentato solo cose che ho sperimentato professionalmente o su cui ho comunque uno sguardo approfondito per esperienze che ho avuto in ambito lavorativo quindi il corso di scrittura di romanzi storici certo che ve lo faccio ho scritto romanzi storici pubblico con il gruppo Mondadori romanzi storici il corso di romanzi fantasy e cacchio sono uno dei primi 15 autori italiani per copie vendute negli ultimi 5 6 7 anni quel che è credo non so i numeri di tutti non li ho ricercati con il bilancino però sarò sono in quel gruppo se non è il top 10 è il top 15 se non è il top 15 è il top 20 ma penso che sia più nel top 15 che nel top 20 scioglilingua idem il corso di editor io ho fatto l'editor per anni e ho continuato ad avere a che fare con editor da allora da quando dall'università perché ho studiato l'università quello fino proprio a tempi recenti se mi chiedete un corso di illustrazione di poesia vi dico non sono la persona giusta per voi chiarissimo grazie mille scrive chiara top qualcuno del mio staff scrive di sicuro la copertina di luce di luna era stata mostrata in un webinar ormai non più online riservato agli iscritti della mailing list ecco è stato avevo un accenno di memoria quindi ragazzi iscrivetevi alla mailing list se no vi perdete le chicche come l'imbarazzante illustrazione di luce di luna negli webinar riservati agli iscritti augusto sto vedendo che ogni volta che rimetto mano a un vecchio racconto anche vecchio di un mese porta con sé la vecchia mentalità e i vecchi errori è vero è vero è vero ho capito che bisogna sempre scrivere cose nuove è una cosa molto molto consigliabile specialmente quando siete in una fase fertile di miglioramento e di cambiamento interiore poi anche lì è anche quella un tracciato sinusoidale ci sono momenti in cui imparate tanto e anche a distanza di poco tempo vi accorgete che avete maturato degli stacchi di sensibilità rispetto al passato o di stile o di priorità che ci sono invece poi dei momenti in cui andate siete più stabili e non è necessariamente meglio o peggio io adesso sono contento di essermi un pochino stabilizzato in tante cose rispetto a quando ho scritto la quadrilogia di eternal war che se leggete il primo romanzo e poi leggete il secondo sembra scritti da due persone diverse quel secondo dal terzo diverso ancora il terzo al quarto è più che altro nel quarto c'è il perfezionamento di quello del terzo però sono diversissimi dal primo al quarto e insomma vari discorsi e alla fine stiamo comunque tirando le due ore mamma mia il 3 settembre la mia prima fiera dice Laura metterò in pratica i suoi suggerimenti la parola non mi manca certo ottimo Laura in groppa al riccio e in bocca al lupo sono 59 già iscritto e corsista solo arrivato tardi purtroppo spero che ricapiterà di poter vedere la famigerata cover e magari la metterò prima o poi la metteremo la ricicleremo in qualche modo mamma mia quel libro che cosa cosa non potrei dire di quel libro di luce di luna va bene ragazzi ci fermiamo qui per questa sera direi che abbiamo chiacchierato a lungo penso di avervi dato delle nozioni degli spunti di riflessione molto preziosi fatene tesoro se potete rifletteteci se volete mettete un like a questo video a me non è che importi tanto ma mi dicono in continuazione dal mio team che invece a youtube piace molto e così facendo aiuterete anche altre persone a vedere questo video e a togliersi a svitarsi la bambagia dalle orecchie e quindi magari iniziare a mettere in atto anche dei comportamenti un po' più sani per se stessi e per l'ambiente in cui anche voi un domani vi ritroverete se fate le cose nel modo giusto a pubblicare e quindi ricordatevi sempre date una mano agli altri date la possibilità a tutti quanti di avere le migliori informazioni possibili perché non è una gara non è una gara a chi ce la fa per primo non è una gara a se vinci tu perdo io non è così in realtà una delle verità che mi si sono palesate con maggior chiarezza quando ho iniziato ad avere i miei primi emuli già con Eternal War lasciamo perdere adesso corrotte narrative che ho i cloni che escono come funghi gente che copia tutti i miei format ho visto di quelle cose ve lasciamo perdere ma già con Eternal War c'erano persone che iniziavano a imitarmi vedevano i miei numeri li vedevano quanto spesso venivano citati sui gruppi eccetera eccetera e cercavano di fare la stessa cosa e una cosa di cui mi sono reso conto è stata che non è che se uno ha successo il suo successo erode il tuo è esattamente il contrario più persone hanno successo nello stesso campo più diventa facile che altre persone possano beneficiare dell'attenzione dei discorsi dell'entusiasmo circa quella nicchia o quel sottogenero quel genere letterario e anche che i numeri di vendita dei picchi aumentino sempre di più quindi non vedete negli altri che al ultimo principio di mentalità della serata poi chiudiamo non vedete i vostri gli altri scrittori che scrivono il vostro genere come dei nemici non lo sono cercate di individuare quelli bravi perché non potete aiutare tutti e anche perché non sarebbe giusto aiutate quelli bravi fa niente se adesso sono più bravi di voi anzi se sono più bravi di voi aiutateli ancora di più perché un domani voi volete fare azioni che vorreste che un domani altri facessero con voi quindi aiutate date visibilità a quelli bravi lo dateli in pubblico sbilanciatevi se qualcuno dice no però no ditegli sì però questa roba l'ha fatta veramente strabene per chi va in cerca di questo aspetto eccetera eccetera quindi fatelo siate generosi siate altruisti cercate di evitare i comportamenti tossici cercate di non intorbidare lo stagno perché è già abbastanza torbido di suo fate del vostro meglio per essere forze positive di cambiamento e diffondete le informazioni corrette questo è quello che noi cerchiamo di fare da tanto tempo questo è il mio approccio personale finora non mi ha mai tradito vi consiglio di fare lo stesso perché funziona ciao a tutti da Livio arrivederci come si chiuderà qua così tac yes